Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. In autostrada possibili disagi in A1 tra Calenzano e Pio 1 variante verso nord, in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione del capoluogo. In Fibili sono in corso i lavori tra Empoli, Est e Montelupo. Attualmente troviamo un chilometro di coda tra Empoli e Montelupo verso Firenze. segnala meno oltre la chiusura dello svincolo di Empoli, Est in entrata in direzione del capoluogo. Siamo a traffico ferroviario per un controllo tecnico a bordo treno. Il 18488 Firenze-Santa Maria Novella-Pisa Centrale viaggia con 48 minuti di ritardo. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tramviari per la tratta Fortezza San Marco, da domani, giovedì 3 novembre, cambia il cantiere in Piazza della Libertà. Oltre loro i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!